Mi chiamo Giampaolo Chiettini e sono socio dell'azienda della vigna di San Martino d'Argiano. La nostra azienda, siamo due soci, io e Andrea Toccacieli, è nata nel 2012. Io sono enologo, Andrea è agronomo e abbiamo deciso nel 2012 di fare il nostro vino. Dopo aver lavorato tanto tempo e continuiamo a farlo per gli altri, fare il nostro vino è stata la nostra sfida e la nostra realtà di ora. Nei prossimi anni vorremmo fare, a livello della vigna di San Martino d'Argiano, abbiamo intenzione di fare una gran selezione perché una piccola parte del nostro piccolo vigneto di un ettaro dà dell'uva particolare, quindi l'abbiamo già fatto nel 2022 e usciremo con una gran selezione, poche bottiglie dedicate solamente a uva, prodotte da uva raccolta in questo piccolo fazzoletto della nostra piccola vigna. Io il discorso del mercato non lo guardo tanto perché io e Andrea abbiamo fatto il nostro vino, quello che a noi piace, certo è un vino che sapevamo e sappiamo che può avere una chance sul mercato, però è moderno, però è particolare, originale il nostro vino.